È una tragedia, ve lo dico io. Io non vi capisco, ragazzi. Secondo me voi non capite il significato delle regole. Ci vogliono le regole e ci vuole la disciplina. Io non so come andava a casa vostra e nella vostra famiglia, ma a casa mia, con mio padre, c'erano delle regole. E se tu non osservavi le regole, succedeva l'inferno. C'erano le regole e c'era la disciplina. A volte non era piacevole, ma, Cristo se imparavamo, imparavamo bene. Girate subito là a destra, va bene così? Avanti. Insomma, la cosa è molto semplice. Ci sono le regole e c'è la disciplina. Questo è sia il principio che la conclusione di tutta la storia. Ci siamo capiti, ragazzi. Dietro front, faccio al muro, faccio al muro, faccio al muro. Anche tu. Allora, prima in refettorio siamo stati interrotti, ma qui non verrà nessuno ad interromperci. Ma che vuole? Giù in ginocchio. Faccio al muro. Giù in ginocchio. Faccio al muro. Non mi restano immagini chiare degli abusi sessuali che subimmo. Li ho rimossi il più profondamente possibile. Quello che ricordo più chiaramente di quella fredda notte d'ottobre è che fosse il mio quattordicesimo compleanno e la fine della mia infanzia. La mia infanzia. E a che cavolo serve questa roba? Serve a pregare. Che cazzata! Che sei messa in testa tua madre, che ti sei arruolato nell'esercito? Non è nella lista degli oggetti ammessi. Tua madre ce l'ha, una copia della lista? Mia madre ce l'ha e sa leggere bene. Non è colpa nostra se quella stronza di tua madre è pure stupida, no? Quando è che ci fai sentire le tue preghiere? Dai, una volta sola, sentiamo come preghi. Forse ha bisogno di un motivo per pregare. Metti le mani sul tavolo e tieni le giubbiate. Allarga le gambe. Comincia a ricordarti un po' di preghiere. Noi non sentiamo pregare. È meglio che cominci a pregare. Se non stai, non ti ficca il bastone su per il culo. Prega forte. Scusa il ritardo, ho perso la nozione del tempo. Mi è venuta un'idea per il testimone, ma non ne sono ancora sicuro. Però vorrei che tu venissi con me, se porti da me. Dove stiamo andando? A casa sola. E dove sta? Sta nella canonna. No, Shakespeare. Ti prego. Fidati di me. Non posso? Tu fidi dati di me. A via.